Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornati sul mio canale, oggi registriamo MyVanilla, cioè un server che ho praticamente, che ci gioco da un po' di tempo e se volete entrare poi vi scrivo l'IP sotto il video, scusate che stavo messaggiando al cellulare, adesso vi faccio vedere la mia nuova casa che sto cercando di costruire e vedrò un attimo che cosa facci, allora, adesso abbassiamo questa, allora, praticamente MyVanilla per intenderci è questo, quello con l'alpaca, sempre che sia un cervo rosso, aspettate che io, ok, fatto sta questa è casa mia, adesso questo è il primo piano, io vivo in una isola piena di funghi rossi, allora poi metterò anche a posto qua, anzi a proposito questo posso portarlo sopra, guardate che sto laggando, fatto sta, poi saranno le librerie, scusate che le cerco un attimo, allora qua c'ho il legno, tante cose, poi c'ho il vetro qua, allora cosa stavo cercando che me lo sono già dimenticato come al solito, le librerie, qua non c'è niente a parte una campana, ma cose che non mi servivano, poi cos'altro qua, qua e qua, fatto sta, poi c'è il cobblestone qua, poi cose per gli ascensori che poi devo ancora fare, ma volevo metterlo dopo quando avrò finito di fare la casa, poi cos'altro, qui c'ho il cibo, qua c'ho i coloranti per fare i vetri colorati, allora stavo cercando le librerie, dove le avrò messe, poi qua c'ho il cane da zucchero e cose del genere, poi qua c'ho altro legno che non so dove infilarmi, qua il ghiaccio, c'è cose che mi potrebbero servire, poi gli accendini che ne ho una sfilza, le torce, i polli, cioè uova, piume, in caso mi servissero, il cane da pesca, le zucche, le cose del nether che sono tante, diciamo, poi le selle per tipo i cavalli e roba del genere, le librerie dove le avrò messe, vabbè, le creo di nuovo, tanto non è che mi costa tanto, ah, perché non lo sapesse, ecco, si fanno così, aspettate, così, ecco, per esempio questa è una libreria, adesso aspettate, vediamo se riesco a... non mi ricordo neanche quante me ne servivano, mi pare quindici, ok, e le abbiamo fatte, tipo, aspettate, ok, per esempio ora ce ne ho quattro, ehm... potete usare qualsiasi tipo di legno, cioè non ci sono preferenze, ok, questo lo finiamo... io ne ho dubbio, ne faccio qui, tipo, a nove, per esempio... ok, adesso andiamo di sopra, che poi vi faccio vedere se è ancora tutto da sistemare, allora, lo mettiamo qui, e ora... adesso mettete tutti... diciamo tutte le librerie che avete creato attorno, aspettate... e vi farò vedere che praticamente, ecco, per esempio, Alessia è a potenza 20, ma potete farlo diventare ancora più forte, cioè fino a 30, aspettate che si riesco a trovare le altre... ah, per esempio qua, c'ho anche la terracotta, quella bianca, e questa è la testa di un player che avevo trovato... ehm... ma quanti minuti siamo arrivati? oh, 5 minuti! Vabbè, continuo... allora, ehm... fatto sta, poi qua... e... ah, le ciulche devo crearmi... non mi ricordo mai come cavolo si fanno... ah, sì, mi ricordo... eccole... ciulcher, ciulcher... riesco a fare addirittura 11, wow... vabbè, meglio così, guardate... ehm... più ne avete meglio, eh, comunque... adesso metto il libro a posto... non so più dove mettermi la roba adesso... vabbè, fatto sta, adesso ho 11 shulker, che praticamente posso decidere di che colore farle... che basta che avere il colorante, per quello c'ho tanti coloranti... allora, per esempio qua... posso farla azzurra, magenta, gialla, viola, verde scura, verde chiaro e anche grigia... e posso farla addirittura anche rosa... adesso vi faccio vedere come si colorano, per chi non lo sapesse... allora, uno la facciamo così... ah, mi era mancata... poi questa la facciamo verde scura, per esempio... allora, questa ne prendiamo una... che ce ne da già due... ne faccio due rosa... così le finisco... poi ne faccio una viola... scusate che tra un po' devo anche andare... eh, una magenta... poi una gialla... quanto mi piacciono questi colori... e poi possiamo farne anche una... grigio chiaro... che a me sinceramente non piace... però poi decidete voi che colore volete fare... ne faccio una anche blu... che ho il colorante... questi li metto via... e poi cos'altro... possiamo farla anche di un altro colore... poi... facciamola... gli ultimi due blu... aspettate... per esempio così... blu... bella blu... comunque me la faccio due volte... ok... mettiamola qua... ecco le mie shulker colorate... aspettate... adesso torno subito... aspettate... come si mette in pausa qua... vabbè... per ora termino qua... lasciate like... iscrivetevi al canale... se anche voi... avete mai creato le shulker colorate... semmai guardate questo video... e le shulker si fanno con... i gusci di shulker che trovate nel land... che a me me l'hanno regalati... devo ammetterlo... e poi lo create con una cassa... per oggi è tutto... da Asia Bianchi out!